Entro la fine del mese di agosto la Gazzetta del Mezzogiorno potrebbe tornare in edicola circa 30 giorni di distanza dall'ultima uscita. La procedura di concordato fallimentare è davvero ad una svolta. Dopo lo stop alle pubblicazioni a fine luglio, due le proposte in campo al momento per le due società in fallimento, la Edisud, editrice del Quotidiano, e la Mediterranea, proprietaria del marchio. I comitati dei creditori delle due società devono decidere entro il 28 agosto su quale delle proposte accettare la maggioranza dei creditori. Tuttavia starebbe optando per la proposta presentata dall'azienda ecologica con a capo l'imprenditore Vito Miccolis, dando una spallata ormai decisiva a quella che potrebbe essere invece il nuovo proprietario dello storico marchio editoriale pugliese. Sembrerebbe superata l'altra proposta, quella della Lady dei fratelli Ladisa, che in realtà ha permesso di portare avanti la pubblicazione della testata nei precedenti otto mesi, a partire da novembre scorso, con il fitto temporaneo del ramo d'azienda. La proposta di Ecologica, al momento la più suffragata, prevede il pagamento di poco meno di 6 milioni di euro e il mantenimento occupazionale per due anni dei 143 dipendenti tra giornalisti, amministrativi e poligrafici. La decisione dovrebbe arrivare in via definitiva già ad inizio della prossima settimana e successivamente il Tribunale potrebbe rapidamente affidare alla società vincitrice una gestione ponte del giornale che potrebbe così tornare in edicola.